Una riflessione sulla Chiesa è quello che porta con sé il giubileo di una parrocchia. Una storia molto bella dove un grande sacerdote, Don Raffaello, fece davvero meraviglie. La comunità oggi è vivacissima perché un missionario dei nostri, Don Luis, un biblista, si sta impegnando ormai da anni a ridare alla parola di Dio il primato nella edificazione della Chiesa. I muri sono fatti, bisogna fare la comunità.